Gli agenti della Polizia di Stato in forza alla sezione volanti pattuglia moto montata Nibbio hanno arrestato un giovane di Ponte Cagnano di anni 20, resosi responsabile di evasione dagli arresti domiciliari. In seguire ad un controllo al domicilio il giovane è risultato assente presso la propria abitazione. Dopo un'ora circa un equipaggio in moto del Nibbio nel transitare in via San Benedetto localizzava il giovane in compagnia di altre persone. L'evaso si dava alla fuga, un agente proseguiva l'inseguimento a bordo del motoveicolo di servizio, mentre l'altro componente della pattuglia si poneva all'inseguimento a piedi, anticipando il riuscente a bloccare la persona in fuga in piazza di Crescenzo. Bloccato e condotto in caserma, dopo le formalità di rito, il medesimo veniva tratto in arresto e trattenuto presso gli uffici della questura a disposizione dell'autorità giudiziaria.